Walter Bonatti, fotografie di grandi spazi. Con questa mostra inaugurata oggi alla Spezia, la Fondazione Cari Spezia prosegue il percorso dedicato alla fotografia, rendendo omaggio ad un grande alpinista, esploratore e fotografo. È una mostra sicuramente divulgativa, che però fa riflettere, perché le immagini di Bonatti sono le immagini della natura con una presenza umana molto forte. Io credo che questa sia la cosa più importante di questa mostra. Un'idea nata in un momento particolare per l'alpinismo spezzino. Il ricordo va alla memoria degli scalatori morti nella tragedia del Gressonei a febbraio di quest'anno. Quando abbiamo appreso, come tutti, di questa tragica scomparsa dei quattro alpinisti spezzini e lunigianesi, è stata una notizia che ha coinciso proprio con l'avvio di questa mostra, e quindi abbiamo pensato di dedicare al loro ricordo. Io credo che sarebbe stata una mostra per loro stimolante, per i loro amici, i loro colleghi. Io mi auguro che trovino appunto qui modo anche per ricordarli come stiamo facendo in questi giorni. Una mostra che vuole celebrare un grande personaggio della contemporaneità, con un forte legame con il nostro territorio, in particolare con Porto Venere. Proprio per questo le immagini dei grandi spazi raccontate da Bonatti saranno esposte in parte nella sede della Fondazione Cari Spezia ed in parte a Porto Venere, al Castello Doria. Alte Bonatti ha scelto di essere seppolto a Porto Venere e anche la sua compagna Rosana Podestà ha scelto di congiungersi con il compagno appunto dopo la morte e anche se è stata seppellita a Porto Venere. È una bellissima mostra, quella che abbiamo inaugurato quest'oggi e che inaugureremo domani al Castello Doria. Ringrazio ovviamente la Fondazione per il contributo importante che ci ha dato per la realizzazione di questa manifestazione. e ringrazio anche l'associazione culturale Posidonia che è stata la scintilla del fatto di averci dato la possibilità di sapere e di essere a conoscenza che appunto c'era una mostra di questo tipo che stava girando per l'Italia, tra l'altro in spazi importanti come quello di Roma e di Milano e che c'è stata la possibilità appunto di poterla organizzare anche qui nel nostro territorio in ricordo di un grande uomo e non solo un grande alpinista che era Walter Bonatti. Un lungo racconto visivo, un'occasione per ripercorrere 30 anni di viaggi alla scoperta dei luoghi più impervi della Terra. Andare dall'Alaska allo Yukon fino in Patagonia, fino in Dancalia girando i posti ancora inesplorati o poco esplorati del mondo e in quasi tutte queste immagini c'è lui c'è lui che è non soltanto il narratore ma anche il protagonista.